Le emozioni e lo spettacolo del calcio e in questo caso della Serie A proseguono anche in questo Blue Monday, il giorno più triste dell'anno, che per i tifosi del Milan proprio triste non è, e per il risultato che sta maturando nella partita contro il Genoa, ma anche perché si potrebbe ufficializzare un giocatore veramente spisellante. Ciao, this is Gaboman, bello a tutti da me, novantesimo, tre minuti di recupero, ma siamo sul punteggio di 0-2 per il Milan. Detto questo, andiamo a commentare questa partita del Milan che se la sta portando a casa e andrebbe al quarto posto in classifica, superandosi a Roma che Lazio, come se dice, anzi, come avevo detto ieri, tra le due litiganti la terza gode. Milan che attualmente si porterebbe appunto a 34 punti, quarto posto, 33 punti Roma, quinto posto, aspetta, allora, 33 punti, sto in coglioni perché sono stato fino a bocca alla stufetta accesa, 34 punti il Milan, quarto posto, al quinto posto la Roma con punto di meno, e poi la Lazio sotto ancora con due punti di meno rispetto al Milan. E va bene, la sblocca, Borini, un giocatore che in tanti sottovalutano, io ce l'ho avuto alla Roma, all'epoca era un altro Borini, è un giocatore che si sacrifica per la squadra, che corre tantissimo e che fa quel che può. Oggi è stato in parte decisivo perché appunto ha aperto le marcature, ma mi sento di elogiare un giocatore come Conti che sta tornando veramente dopo un infortunio alla grandissima per il Milan. Un giocatore che per tutta questa stagione, ma anche per quelle a venire, secondo me sarà uno dei più determinanti, in terzino che personalmente mi piace tantissimo. E poi ovviamente ce l'ho contro al fantacalcio, chi ti va a segnare il gol del 0-2? Ovviamente Suso ragazzi miei, che però, lasciatemelo dire, su assist di Cutrone se non sbaglio, è stato bravissimo ad affondare e ad incrociare il tiro, su cui Radu non ha potuto proprio nulla. Come si mette la situazione del Milan attuale? Ovviamente abbastanza bene, si porta a meno 6 dall'Inter, terza in classifica e lo ripeto, 34 punti, Roma 33, Lazio 32, rispettivamente al quarto, quinto e sesto posto in classifica. Ma non dimentichiamoci che squadre come la Sampdoria, squadre come l'Atalanta, squadre come il Parma, stanno là belle attente, con qualche punticino in meno, ma comunque provano a fare quel che possono per un ipotetico e, forse chi lo sa, clamoroso quarto posto. Sono tante le pretendenti, ecco, tra cui c'è anche la mia squadra del cuore. Io vi invito, mi sono scordato, a scaricare OneFootball, la mia applicazione preferita e di riferimento, per seguire tutto il mondo del calcio, ragazzi miei, è l'applicazione migliore attualmente in circolazione per restare sempre aggiornati sul mondo del calcio. Quindi, notizie, calciomercato, indiscrezioni, risultati delle partite, de tutto e de più, se vi va scaricatela, tanto è completamente gratuita, vi lascio il link in descrizione. Sta per finire, ragazzi miei, quattro secondi e quindi il Milan, ripeto, si porta a casa una partita veramente incredibile, aspettando l'ufficialità di Christoph Piontek che potrebbe arrivare proprio oggi. Vi terrò aggiornati al riguardo. È finita in questo momento, ragazzi miei, Milan saldo al quarto posto, almeno per il momento. Ciao!